E' previsto nelle prossime ore l'incontro tra le associazioni di categoria degli autotrasportatori e il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova. Sul tavolo le questioni che hanno messo in agitazione gli autotrasportatori, prima e fra tutti l'aumento del carburante e il tentativo di trovare soluzioni adeguate per affrontare le criticità strutturali di filiera. Lasciare i prodotti nelle campagne e non farli arrivare sugli scaffali non è una soluzione, annuncia la Bellanova. Si scarica sulla vita delle persone più fragili, inasprisce ancora di più le relazioni e i problemi.